A volte non tutto va come avremmo voluto, ma l'importante è sapere come rimediare. Magari qualche piccolo problema in cucina può essere risolto grazie a qualche delizioso trucchetto. Ah, come sono riposata! Ma sono nuovi? Spero che sia del latte. Oggi voglio la ciotola grande. Beh, basta una qualsiasi ciotola. Accidenti! Ora come faccio a mangiare? Immagino che dovrò rinunciare alla colazione. Ma basta pensare fuori dagli schemi, o meglio, dentro la scatola. Fai un buco nella parte inferiore della scatola e taglia con cura la parte anteriore. Ora metti le forbici all'interno della busta. Versa il latte. Ed ecco a te una bella ciotola! Finalmente posso mangiare! Wow, Vicky! Che fantasia! Posso mangiare anch'io! Chi ha più bisogno di ciotole? Mela e cannella, le adoro insieme! Soprattutto quando si cuociono al forno. Basta un goccio di latte. Oh, scusa! Questo caffè è proprio ciò di cui ho bisogno. Non farci caso, io sto mescolando. O meglio, montando. La macchina del caffè! Ma è dappertutto! Ma come farò a pulirla? È troppo caldo! E questo potrebbe andare a mio favore! È come una piccola piastra per pancake! Chi lo avrebbe detto? E forse avrà anche un buon sapore! Oh sì, passami l'olio! Ora diamoci dentro! Chi avrebbe mai detto che fosse così versatile? E chi non ama i mini pancake? Wow, ma guarda come va! E ora giriamolo! Perfetto! Ti sbrighi che ho fame? Ok, ci siamo quasi! Abbiamo fatto un bel po' finora! Mi sta venendo l'acquolina in bocca! Non dirlo a me! Grazie, ma ora mangiamo! Sembreranno piccoli! Ma quanto sono buoni! Qualcuno ha ordinato dei cupcake? Devo assaggiare! E sai, assicurarmi che non siano avvelenati o altro! Mi entrerà tutto in bocca! Vicky! Ricordati che devi anche respirare! Non date fastidio a Vicky quando mangia i cupcake! Che buono! Sono perfetti! Cosa c'è? Mi sono sporcata? Ah, la glassa! Grazie! Ma perché si fa sempre casino quando si mangiano i cupcake? Penso di avere una soluzione! Con una mossa rapida? Puoi avere un cupcake sandwich! Ora la glassa non sporcherà più! Ed è ancora buonissimo! Accidenti! Che genio che sei, Bella! Un giro veloce! E puff! Un bel sandwich! Oh sì! Ed è buonissimo! Alla nostra! Ci sentiamo più tardi! Questo succo è così buono! Ah! Ehi Vicky! Non penso di aver mai avuto così tanta sete! Mi versi un po' di succo! Mi sa che l'ho finito! Mi spiace Vicky! Ma è finito! Ma ho troppa sete! Non so cosa dirti! Mele? Tranquilla Vicky! Ci penso io! Dammi un po' di tempo, ok? Prima metti un paio di mele nel congelatore! Eh? Devi essere paziente! Nel frattempo tu fa qualcosa, ok? Dopo mi ringrazierà! E ora aspettiamo! La musica aiuta quando devi aspettare! Mela, ora sono cavoli tuoi! Era ora! Mele, come state? Sì, direi che sono congelate! Una volta scongelate, saranno più morbide! E quindi possiamo spremerle! E lo faremo a mani nude! Guarda tutto quel succo! Non c'è niente di meglio del succo di mela, non è vero? A Vicky piacerà! Alla mia salute! Oh mio Dio, bella! Sembra delizioso! Adoro il succo appena spremuto! È così rinfrescante! È così rinfrescante! Non compreremo più il succo al supermercato! Una delle cose migliori dell'estate è mangiare la pannocchia sbollentata! Vicky, vieni! La cena è pronta! Hai fatto le pannocchie! Non ti spiace, vero? Oh oh! Ho un piccolo problema! Forse è meglio evitare! Altrimenti dovrò correre dal dentista! Oh, ma non mangi con me! Non con questa bocca di metallo! Beh, ma non è giusto! Mi dispiace! Vuoi uno di questi? Sono buoni! Non sono pannocchie, questo è certo! E non sono così succose! Guarda come mangia! A me è rimasto lo spiedino! In realtà, forse può tornare utile! Fammi vedere! E se infilzassi lo spiedino fino in fondo? Ah! I chicchi si staccano! E vai! Wow! E ora, anche se hai l'apparecchio, puoi gustarti il mais! Hai qualcosa tra i denti, bella! Bene, la serata tra ragazze sta andando benissimo! Ma chi è? Che cosa? Alex vuole lasciarmi! Ma perché? Io sono la fidanzata perfetta! Mi ha mandato un messaggio, vedi? Non posso credere che sia finita! Oh, non me lo merito! Per fortuna che c'è il gelato! I cucchiai! Bene! Ora devi solo strafogarti, ok? Prendi un morso! Ok! Ma è duro come una roccia! Mi va tutto male! Dai che sistemo tutto! Gelato sciogliti! Sciogliti! Penso di sapere come fare! Un po' d'acqua! Aia! È calda! Ed è proprio così che ci serve! Immergi il gelato nell'acqua calda! Così dovrebbe andare! Vicky starà meglio in un attimo! Sì! Ma quanto è buono! Ecco a te, Vic! Mangiane quanto vuoi, ok? Ora sì che sto meglio! Prendine anche tu! Questo gelato ti farà star bene in pochissimo tempo! Credi che metterai a frutto uno di questi trucchetti col cibo? Avvisa i tuoi amici e non dimenticare di iscriverti al canale YouTube One2FreeGo per altri video come questo! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.